Ben ritrovati di nuovo su Reviewing You, oggi vado a recensire insieme a voi questo prodotto davvero interessante acquistato su Amazon ad un prezzo scontato. Sto parlando di questa piccola decorazione per la vostra casa, camera da letto, ufficio, un inceneritore che presenta la particolarità di creare un effetto a cascata quando si vanno inserire i coni di vincenso al di sopra. Come vedete arriva all'interno di questa graziosa scatolina quindi anche ideale come regalo da fare. Link in descrizione di Amazon per acquistare il prodotto che è disponibile sia in questa colorazione nera ma anche marrone in legno e ha una forma di fiore, fiore di loto dovrebbe essere. Quindi quando si va ad accendere il cono ovviamente crea un effetto davvero interessante a cascata. Misure 13 x 11,5 x 10, ve lo faccio vedere anche in tutti i lati, qua c'è anche il foro per mettere la bacchettina di incenso, veramente fatto bene e il materiale è una specie di ceramica. Come vedete c'è anche un foro al di sotto per arieggiare. È davvero un prodotto che mi ha colpito particolarmente quindi ve lo consiglio. Link in descrizione di Amazon, compreso ovviamente anche i coni forati. Se avete qualsiasi domanda non esitate a pormela.